Vabbè, i soldi, quelli antecedenti vanno presi e quelli vanno presi assolutamente, ma per me dovrebbero pagarlo anche ora, mi sembra un pochino assurdo parlare delle piattaforme e dire se producono o non producono, a seconda di quello pagano o no, perché quando comunque avevamo la tassa solo a casa non è che ti chiedevano quanto stavi in casa o quanto non stavi in casa a seconda, pagavi in modo diverso, per cui se non producono più magari si trova modo o di smantellarle o di farci qualcos'altro sopra, perché si potrebbero magari fare anche dei progetti per fare sopra queste piattaforme. Ristoranti, qualcos'altro, se non si vogliono smantellare o non si riesce a smantellarle, cosa invece che sarebbe servito questo referendum se passava. Assolutamente devono pagare, non è ammissibile che non paghino almeno i pregressi?